ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video allora oggi come avrete capito dal titolo e dalla sigla parte un nuovo format io da molto tempo ho scoperto un nuovo mondo che è quello dei coupon dei concorsi delle promozioni che a cui prima non facevo caso non guardavo nemmeno è un po di tempo che mi ero fermata perché avevo fatto veramente tantissime scorte e quindi eravamo veramente pieni nonostante siamo tanti eravamo pieni di roba aveva una dispensa fantastica se trovo le foto me le lascio qui da qualche parte qua sotto adesso vediamo oppure sopra la faccia e avevo una dispensa veramente enorme tanta roba e quindi poi a un certo punto detto basta adesso mi fermo e praticamente abbiamo iniziato a far andare quello che avevamo adesso da adesso praticamente ho ripreso e quindi ho detto perché non fare vedere non parlare di questa cosa che può aiutare tantissime persone mi può aiutare veramente tanto a risparmiare e niente ovviamente sentirete un casino perché i bambini ci sono non so subito ho girato quattro negozi tre di casalinghi che sono tigota ipersop e cardis e uno in un supermercato che è il bennett e vi farò vedere quello che ho preso iniziamo subito iniziamo subito da tigota vi faccio prima vedere quello che ho preso semplicemente perché mi serviva e non era in offerta e poi parto con la spiegazione di queste di queste concorsi che a cui ho partecipato questa volta qui cercherò di darvi le informazioni più precise che posso allora per prima cosa da tigota ho preso questi pannolini della sorbello ce ne sono dentro 18 e costano 3 euro e 20 normalmente all'euro spin li pago 3 euro e 69 ora in realtà non so se a quantità c'è qualcuno in questa sala ok potete guardare nel pacchetto giallo dei pannolini di pia quanti ce ne ho scritti che ci sono 20 quindi invece quelli dell'euro spin dentro ce ne sono 20 però voglio dire vabbè alla fine sono 49 centesimi mi trovavo lì ho detto se li trovo che hanno un prezzo uguale o inferiore a quelli dell'euro spin li prendo ho trovato questi ne ho ben presi tre pacchetti ho preso una cosa questo che è la lozione lo shampoo con il pettine dentro per i pidocchi questo qui costava 14 euro e 50 al momento i bambini non li hanno però se ricomincia la scuola io mi lo tengo sempre una confezione in casa perché non si sa mai abbiamo ancora dello spray preventivo che lo uso ma poi a giro immaccabilmente qualcuno l'ho preso lo teniamo poi adesso partiamo con quello che all'articoltà era in promozione o che grazie a quell'acquisto lì mi veniva dato un omaggio e anche la borsa grazie è distrutta la mia genina poverina non ne ho più perché adesso la devo fare all'articoltà prendendo due di questi uno in realtà la promozione era un deodorante e un bagno doccia però ho detto vabbè prendo due deodoranti che sono in offerta a 1,95 euro così mi da due bagno doccia e quindi se sto così non si vede? non si vede sotto quale pezzo si vede? si vede fino qua no vabbè va bene basta che ci vediamo anche e quando sono arrivata alla cassa mi ha detto ah guarda che non ce l'ho più e mi ha detto se vuoi ti do un altro omaggio va bene me ne ha dato solo uno mi ha dato la crema solare della bilboa questa qui è media 20 come si dice protezione 20 viso e corpo crema solare questa qui è quella da viaggio travel e non ho ancora sentito il profumo beh buonissima come sempre quella della bilboa e quindi la prima cosa che ho fatto è stato questo avrei preferito vabbè il bagno schiuma ma vedrete che tanto non è che ne sono proprio così a corto e quindi va bene anche questo qua comunque una crema solare se riusciamo la usiamo quest'anno se non riusciamo più ad usare quest'anno la teniamo per l'anno prossimo poi questo qui è a volantino ed è un omaggio che dà il negozio invece per quanto riguarda i concorsi il primo che vi vado a mostrare è quello con i prodotti della Quasar ogni due prodotti acquistati ve li faccio vedere io ho preso questi due qui c'è il rimborso totale di quello che si è spesa vanno due per scontrino adesso vi do delle informazioni più precise praticamente il massimo del rimborso e 5 euro e 78 e 5 euro e 78 bisogna acquistare solamente dove il negozio che aderisce come si fa a capire se un negozio aderisce oppure no metterà sul volantino il tagliandino che vi lascio qui una foto per farvi vedere come lo vedete comunque c'è praticamente l'immagine dei prodotti e c'è scritto acquista due prodotti e tipo rimborso totale come in questo caso qui in questo caso si può partecipare una sola volta a persona e appunto ce ne vanno o due oppure un bipacco io il bipacco non l'ho trovato quindi ne ho presi due e ho scelto lo sgrassatore quello per i vetri con ammoniaca comunque i vetri in casa non mancano tra gli specchi e i vetri delle finestre ci sono sempre da pulire lo sgrassatore dietro dice che va bene per il lavandino per il bici e le piastrelle e per il piano cottura quindi voglio dire si può usare sia in bagno che in cucina e niente quindi la prima è questa qui comunque vi lascio poi sotto in info box i link per arrivare a tutte le promozioni così con rimborso o con premio certo così potete andare a collegarvi direttamente vi consiglio anche di iscrivervi al gruppo facebook risparmiando dove potrete tenere tutte le informazioni e su qualsiasi concorso o promozione ci sia in atto e anche per chiedere informazioni visto che magari siete all'inizio e non l'avete mai fatto è importante capire bene ma la cosa più importante di tutte è leggere il regolamento due o tre volte se necessario perché ci sono magari cioè non magari ci sono delle informazioni importanti quindi la prima abbiamo detto è questo qui del quasar io l'ho fatto ne ho presi quattro una volta parteciperò io una volta parteciperà Maurizio non vi sto a spiegare tutte e tutte le regole perché appunto come vi dicevo va letto il regolamento quindi mi raccomando prima di acquistare leggete bene il regolamento e come consigliavo anche alla mia amica Sara prendete un foglio come ho fatto io qui scrivetemi tutto quanto dove bisogna acquistare che cosa bisogna acquistare quante volte si può partecipare a persona quante cose vanno per scontrino in modo che poi non vi perdete niente quando andrete come si ottiene il rimborso? praticamente quasi per tutti bisogna o caricare comunque lo scontrino online e poi spedirlo oppure caricarlo online e poi vi viene inviato un link all'email che dovete cliccare per confermare i dati e quindi poi una volta che loro vedranno che tutti i dati sono corretti vi mandano il rimborso quindi segnatevi tutti quanti io adesso quando andrò a caricare quegli scontrini andrò a segnarmi di quale quando ho caricato lo scontrino in modo da avere un riscontro poi quando spedisco nel caso dovessi spedire lo scontrino e niente quindi così ho tutte le informazioni che mi occorrono e non mi perdo per strada perché se no poi uno se lo dimentica vi assicuro perché l'altra volta lasciavo le cose così al caso poi me le dimentica poi cosa ho preso? poi ho preso Neutromed nella Neutromed praticamente la promozione è questa qua compra 10 euro di prodotti e noi ti diamo 5 euro di buono spesa a Tigotà quindi io per arrivare a 10 euro ho preso 4 bagnoschiumi ho scelto questo qui Neutromed Power Revitalizzante è una doccia shampoo corpo e capelli poi il doccia schiuma acqua di cocco con estratto di cocco nutriente fresco il doccia schiuma questo qui miele e lisier profumo di gardenia bianca e poi questo qui Absolute Clean che è corpo capelli e viso e poi 4 detersivi per le mani sempre acqua di cocco questo qui yogurt e aloe vera questo qui antibatterico che direi che adesso è quello che ci serve più di tutti e poi questo qui idratante con questi prodotti io ho fatto due partecipazioni quindi due scontrini diversi che appunto come vi dicevo ci serviranno per avere pratica due buoni da 5 euro di tigota il bagno schiuma tanto ci serve il sapone per le mani anche sia a casa che poi eventualmente da portare a scuola se si ritornerà di conseguenza comunque sono cose che normalmente compriamo e così ci torna indietro un po' qualcosina quindi con un neutromed è questo qui se trovo cioè vi lascio poi qua il talloncino nel come si chiama nel volantino di tigota ve lo lascio qua così lo vedete così almeno poi è più facile quando lo andate a trovare e quando lo andate a cercare e niente anche questo qui vabbè le regole sono sempre che bisogna iscriversi al sito e più o meno la regola vale un po' per tutti quanti quindi sempre bisogna iscriversi comunque a un sito e poi dedicato e poi si richiede il rimborso vi lascio comunque tutto quanto qua sotto poi ho fatto Nivea allora per quanto riguarda Nivea era acquista 20 euro spedisci e ricevi 20 euro in gift card tigota digitali 2 gift card a 10 euro adesso vi faccio vedere che cosa abbiamo scelto anche qua sono una partecipazione a persona quindi noi ne abbiamo prese per fare due partecipazioni e praticamente abbiamo scelto i bagnoschiumi per quanto riguarda Nivea vi faccio vedere quelli che ho scelto io erano in offerta a 1 euro e 35 tutti quanti e quindi abbiamo scelto quelle lì per fare la cifra giusta per fare i 20 euro ne abbiamo presi 15 per ogni scontrino io ora vi faccio vedere i tipi che abbiamo preso abbiamo preso poi per fare due scontrini servivano 30 prodotti erano 10 quindi abbiamo preso tre volte gli stessi prodotti ok l'ha presi Sabrina veramente però per partecipare bisogna prendere 20 euro quindi sono 15 prodotti da 1 euro e 35 se poi scegliete altri prodotti dovete farvi calcoli io vi dico quello che ho fatto io abbiamo scelto questo qui calcolate che non ho mai 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 provato il bagnoschiuma della Nivea è la prima volta mi profumo questo qui è buono allora abbiamo preso questo qui doccia purificante zenzero e basilico argilla di origine naturale pelle morbida e vellutata poi Nivea Man il dip clean doccia shampoo molto buono no non te lo do poi Nivea Man sempre active clean questo qui è carboni attivi sempre doccia shampoo che buono questo qua poi argilla detox agave blu e lavanda buono poi questo doccia crema creme soft olio di mandala fraganza delicata in questi ultimi volantini concorsi nel regolamento c'è anche la lista di tutti i prodotti che partecipano il che vi assicuro è di grandissimo aiuto perché se voi controllate bene potete farvi lo screenshot lo portate a lì ve lo portate diet cioè ve lo portate nel telefonino e potete andarlo a vedere nei momenti in cui state comprando è attaccato vero? si si ho toccato poi abbiamo preso questo doccia gel water healing e oil perle d'olio fragranza di ninfea e mi piace proprio come è fatto così trasparente molto buono questo qui è azzurro che è uguale praticamente quello là è la fragranza di ninfea questo qua è fragranza di frangipane buono buonissimo ma io poi adoro gli schiumi sempre nivea man questo trasparente pure impact doccia shampoo anche questo ha un profumo buonissimo poi doccia crema creme care il profumo e la morbidezza dell'originale crema nivea buonissimo vabbè per chi conosce la crema nivea e poi questo è della nivea man energy 24 ore fresh effect doccia shampoo buono allora poi sempre in attiguità l'ultima che ho fatto è spuma di champagne che dice 5 euro per scontrino di cui un bagno crema e allora io ho preso questi qui adesso ve li faccio vedere ecco basta no fermati ok quindi metti pure là allora là ce l'ho ce l'ho allora praticamente per fare 5 euro ho preso come bagno crema questo bagno doccia qui idratante al latte di mandala è burro di karité non ho sentito il profumo è buono è buono e insieme insieme ho preso questo detergente intimo questo qui è quello delicato per uso quotidiano con estratti emollienti della seta e quest'altro invece rinfrescante contro i cattivi odori con estratti idratanti del cotone sono tutte e due con acido lattico di origine naturali senza slesse parabeni senza sapone e testato sotto controllo ginecologico e niente ho preso questi due qui in tutti e due gli scontrini nell'altro scontrino ho preso anche questo invece di prendere quello là burro di karité a Gabriele ha scelto questo qui perle di seta e vaniglia e adesso vi dico come molto molto buono e niente quindi come spuma di champagne abbiamo fatto questo e niente quindi è semplicissimo anche lì c'è l'elenco dei prodotti che si devono utilizzare che si possono utilizzare quindi abbiamo fatto adesso passiamo a Cadiz allora la prima del Cadiz è Licia dice acquista 10 euro di prodotti Licia e noi ti rimborsiamo 10 euro stavo guardando ma era così ok quindi vi faccio vedere quello che ho scelto io per fare 10 euro ho scelto cose che utilizziamo che noi donne utilizziamo questi no io sono una bambina comunque è ancora una bambina vieni quindi sono attenzione per adesso vi faccio vedere quello che ho scelto allora per fare 10 euro anche lì ho dovuto fare i conti perché ovviamente non sapevo ho preso le salviettine queste qui struccanti che erano in offerta 99 centesimi con latte di avena dentro ce ne sono 20 pezzi e sono fatti con il 97% di ingredienti di origine naturale testato su viso e occhi esclusivo tessuto bifase con micro rilievi ho preso queste rosa e poi queste verdi che sono invece con complesso minerale quindi queste salviettine struccanti che l'unica che si trucca qui dentro praticamente è Giorgia poi i dischetti questi qui dell'alice appunto morbido strucco viso e occhi anche questi qua servono comunque per struccarsi e poi gli assorbenti guarda forse non ne ho tirato fuori un pacchetto ho preso questi qui Maxi Comfort assorbenti ultra 12 lungo con ali grazie poi questi qui dei comfort che dentro ce ne sono 14 giorni con ali questi qui comfort dei che dentro ce ne sono 16 anatomico ipoallergenico con un strato di camomile e proteine della seta e poi questi qui night 10 assorbenti sempre con un strato di camomilla e niente quindi due partecipazioni una persona in realtà in questo qua allora in questo qua non c'era non c'era un numero fissa di partecipazioni io non ho esagerato perché comunque diciamo che sono buone partecipazioni ma ci va un investimento iniziale quindi non è che uno può investire 10 milioni di euro ma verceli lo farebbe anche e quindi ho preso poco nel senso avete visto quanti bagnoschiumi gli assorbenti si è vero che noi ne facciamo andare comunque tanti però non li abbiamo mai provati non so neanche come ci troviamo quindi vi lascerò scritti in sovraimpressione le date di schedenza dei vari volantini e delle varie promozioni così almeno lo vedete subito colpo d'occhio poi sempre a card abbiamo fatto quest'altra promozione che è di quasar o chanteclair e dice devi acquistare 10 euro di cui almeno un ammorbidente da un litro quindi adesso vi faccio vedere ne ho scelto in due profumazioni della chanteclair e poi vi faccio vedere cosa ho scelto come quasar perché ne ho presi di diversi qualcuno è uguale a quello che abbiamo già preso prima in realtà è allora praticamente per fare lo scontrino da 10 euro ho scelto morbidente per il primo scontrino ho scelto fiori di arancio e narciso e invece come quasar vi faccio vedere io cosa ho messo dati cardis sono in offerta 1 euro e 89 io ho scelto un doccia vetri un vetri con ammoniaca e due sgrassatori universali che vanno bene per i tessuti moto forni cappe e piani cottura nel secondo scontrino invece come ammorbidente ho scelto sali marini e fiori di loto come quasar sempre due sgrassatori universali un altro doccia vetri e poi questo qui per i vetri basta formula originale e niente quindi questo qui come vi dicevo acquista 10 euro e ti tornano indietro 20 euro poi l'ultima che ho fatto da cardis è stata quella per aspettate che mi viene lana le pastiglie per la lavastoglie quelle della feri ce n'è anche di un tipo nuovo la promozione che ho fatto io è le stelle del pulito gratis per te una partecipazione a persona acquistare tre prodotti tra feri e c'erano altre marche c'era mastrolindo c'era fibris via cal io ho preso feri perché di via cal ne ho ancora di quando avevo fatto quelle altre cose e il quasar l'avevo già preso lì ma non mi ricordo se c'era il mastrolindo non mi andava il swiffer ho preso da poco lo spolverino quindi non mi interessava perciò ho preso le pastiglie per la lavastoglie adesso mi dico io sono in offerta la zigotà qui da me a 4 euro e 89 vari tipi quindi io per il primo scontrino ho preso tre di questi pacchi qua che sono original all in one da 38 e altra cosa che potete fare per essere sicure di non sbagliare il prodotto è leggere qua sotto il codice a barre nella lista dei prodotti che rientrano nella promozione ci sono anche i codici a barre oltre che i nomi che lì è segnato come EAN se voi guardate la dicitura magari è diversa come nome ma se l'EAN è uguale vuol dire che è quello lì il prodotto quindi per il primo scontrino ho scelto tre di queste a 4 euro e 89 perché il rimborso massimo per questa promozione qui è di 15 euro 4 euro e 89 io sono arrivata a 14 euro e 68 e quindi direi che la scontrino si può anche inserire su desideri magazine per desideri collection e poi invece il secondo scontrino adesso ve lo faccio vedere ho scelto delle altre pastiglie un sito non l'avevo mai visto è la prima volta che lo prendo infatti c'è che sta nuova ma infatti appunto quello che non l'avevo mai preso avevo mai visto scritto nuova ho preso due pacchi di queste qui platinum all in one sempre sono in offerta 4 euro 89 e in più ho preso uno di questo qui platinum plus all in one azione pulente al primo lavaggio tecnologia anti opaco per aiutare a restituire la brillantezza originale e niente è raccomandato da varie marche di lavastoviglie vediamo un po' vi farò per sapere come mi trovo e per quanto riguarda candis abbiamo finito allora adesso dai per stop partiamo con questa cosa qui allora in pratica ho preso questi qua sono omaggi che dal negozio colgate se compri tre prodotti colgate loro ti danno in omaggio un colluttorio in taglia piccola ovviamente e ho preso questi tre dentifrici anti tartaro più whitening e il colluttorio appunto che ci andava assieme era questo qui poi sempre per quanto riguarda colgate ho preso questi tre spazzolini che comunque stanno in otto meno male qualche d'uno ce l'ha sempre da cambiare a parte comunque Giada che usa ancora quelli piccolini però no i più grandi così almeno ce li abbiamo da cambiare e qui c'è l'altro colluttorio che davano appunto in omaggio con tre prodotti colgate poi con tre di questi dischetti struccanti della Daymack App Cotton Shands Expert in regalo c'era una confezione di Saproteggi Slip della Nivenia questi qui sono 32 sottilissimi traspiranti come la biancheria di cotone freschezza quotidiana e quindi ho preso tre confezioni di dischetti per un per un proteggi slip poi con il deodorante della malizia questo qui profumo di inteso ho preso questo qui vanilla danno in omaggio un bagnoschiuma cremoso miele zenzero in questa confezione da 100 ml non ho ancora adorato è spettacolare spettacolare poi con DAV come diceva prendi tre prodotti e ti diamo una cornice io ho preso tre DAV io ho preso questi qui frou frou come li chiamiamo noi ma sono quelli roll mi hanno dato una cornice mi faccio anche ribaltare adesso la apro con voi non l'ho ancora vista la cornice che ci hanno dato in regalo ma penso sia una cornice bianca semplice ha dietro questo coso qui per appoggiarla non la vedete ma volevo vedere se si appoggiava sì e come vedete intorno alla rigga blu qua c'è il segno del DAV che è sull'odorante dorato lì invece è blu e poi tre stelline qua in alto a sinistra e tre stelline in basso a destra di colore azzurro molto molto carino e niente adesso vi faccio vedere un'altra cosa Neutromed con Neutromed praticamente diceva se prendi due due deodoranti ti danno un dolce idratante allora aspettate se lo devo trovare perché c'è tantissimo aroma cosa ho fatto io dovete sapere cosa ho fatto io ho prima due deodoranti Neutromed così a spruzzo uno rosa sensitive e uno azzurro fresh e in omaggio mi hanno dato il bagno e doccia questo qui idratante adatto a pelli delicate che così va bene per Giada che comunque magari era più piccolina o comunque per i bambini e poi ho preso anche due deodoranti così in roll ho scelto sempre fresh e sensitive anche in roll che hanno la confezione di vetro e appunto mi hanno dato un altro bagno e schiuma di questo qui idratante adatto a pelli delicate poi queste qui erano gli omaggi del negozio poi invece ah no ce n'è ancora uno scusatemi che è con mentadent se prendi un due prodotti ti danno un quaderno io ho preso il dentificio per Giada questo qui gusto frutta e uno spazzolino nuovo sempre per Giada due sei anni così rosa con un cavallino e in omaggio adesso ve lo faccio vedere c'è questo quaderno che è semplice non niente è sorrisi previdenti con la mela sopra e dentro è a quadretti grossi poi Neutro Roberts dice di acquistare due prodotti Neutro Roberts di cui un diodorante e praticamente ti rimborsano massimo 7 euro sempre uno per persona io sono andata a prendere una ricarica così di sapone per le mani idratante con glicerina e un deodorante di questi qui è roll fresco 0 sali 0% di alluminio 0 macchie tutto 0 0 ho fatto due scontrini così uguali e appunto così mi rimborsano quello che ho speso ho fatto ipersop se comprami 8 euro di prodotti ipersop praticamente mi davano 260 punti sulla tessera che ho scoperto ieri che era nuova quindi ricordatevi nel caso di rifarla perché non è più la stessa verde con scritto sopra ipersop ma adesso è bianca con la scritta per me mi sembra viola e quindi ho scelto ho preso due di questi sapone per bucato a mano in lavatrice vabbè dice 13 lavaggi ho preso questo qui al muschio bianco che mi piace un sacco come profumo quindi sono sicura di non sbagliare infatti ne ho presi due poi ho preso una candeggina sicura efficace per lavare per terra per disinfettare perché comunque visto che ci sono anche i cani i gatti eccetera l'ho presa poi ho preso due ammoniaca profumata da un litro di quello lì al muschio bianco in realtà ne ho presi tre e non due e poi ho preso uno di questi uno sempre sapone per il bucato marchiati per sop sapone di marsiglia e uno anche se ho ancora iperlana di quando l'avevo fatto ho voluto provare questo qui sempre dell'iperstop lana e delicati questo qui è rosa effetto velutante vediamo un po' come mi trovo poi vi faccio sapere per ultimo ma non per importanza c'è il concorso Sunsilk che dice compra uno shampoo un balsamo e un trattamento anche qui si può partecipare una sola volta per persona e noi ti rimborsiamo il costo del balsamo e del trattamento quindi con il prezzo dello shampoo si hanno però tre prodotti allora vi dico che in offerta lo shampoo e il balsamo l'iperstop stanno a 1,19 euro e ho preso questi qua viola ho preso questi qua viola il shampoo e balsamo lo shampoo e questo liscio effetto 2 in 1 e balsamo liscio perfetto per capelli lisci azione anti crespo tecnologia straight lock e come trattamento che era l'unico in realtà che c'era ho preso questi qua un minuto wow trattamento intensivo liscio perfetto per capelli lisci senza effetto crespo e ho fatto due scontrini così uguali identici e niente vi lascerò come sempre tutto quanto mentre io parlo qua sotto e anche sotto nell'infobox dove vi lascerò il il link per andare direttamente al sito dove c'è questa promozione poi controllate i volantini perché magari può darsi che nella vostra città se non avete magari per sop magari lo trovate tipo su tigotà o anche acqua e sapone io purtroppo qua vicino non ce l'ho quindi non partecipo a quelli che fa acqua e sapone allora al Bennett come vi ho detto all'inizio ho acquistato solamente queste quattro bottiglie di vino che hanno però questo collarino e sopra praticamente c'è scritto che dal primo marzo al 31 dicembre se si compra queste queste bottiglie si ha diritto a 10 euro di buono cumulabile sul singolo acquisto fino a un massimo di 50 euro nel sito dove si può spendere il buono vedo marche come KitchenAid Nespresso Ballarini aspettate Smeg Kenwood Bormioli De Longhi quindi direi comunque ottime marche e io l'ho presa da regalare a Natale e anche il il buono lo spenderò per prendere un regalo per Natale e niente volevo farvelo vedere io lo trovate al Bennett non so se si possono trovare anche in altri supermercati la marca vedete sono queste qui perché ci sono varie marche che ecco qua la promozione è valida per il formato 750 ml di vini delle marche Bigi Bolla Fontana Candida Melini Conti Serristori e Rapitalà praticamente bisogna conservare lo scontrino e poi andare sul sul sito per registrarlo il regolamento completo è disponibile sul sito www.ilvino più buono punto it comunque anche questo qui ve lo lascio scritto qui sotto in info box e niente quindi per questo primo video è tutto vi lascerò appunto tutti i link e tutte le cose in info box fatemi sapere se è una tipologia di video che vi interessa fatemi sapere cosa ne pensate se partecipate vi ricordo di iscrivervi al arrivo amore di iscrivervi al profilo facebook al gruppo facebook risparmiando dove potrete ottenere tutte le informazioni necessarie dove vengono condivise sempre i link delle promozioni che sono attive in questo momento adesso è partita il 17 di agosto quella della di xan quindi stiamo guardando sui volantini appena la vedremo e niente quindi per il momento io vi saluto e vi invito a iscrivervi al canale a lasciare un po' dei cinsù se il video vi è piaciuto e Giara e Sabrina mi fanno vedere che per aver speso cioè per aver il primo conto dovevi fatto vedere degli omaggi praticamente c'erano anche gli estate che abbiamo bevuto tre alla pesca tre al limone che abbiamo bevuto ieri e con un euro e novantanove mi hanno dato queste ciabattine che le ho prese per Georgia visto che sono nere e adora il nero sopra hanno disegnato delle farfalline grazie per avermela ricordata quindi vi ricordo di iscrivervi al canale mettere un mi piace se il video vi è piaciuto e attivate la campanellina per non perdere i nostri prossimi video ciao 1,2,3 come on come on come on ha